E nonostante le condizioni legate alla vicenda del coronavirus, oggi comunque è una domenica importante per la Puglia perché arriva Papa Francesco in visita ufficiale, un evento tanto atteso dalla comunità barese che quindi non è coinvolta ovviamente nella vicenda del virus cinese, tanto che lo ha ribadito anche il sindaco del capoluogo De Caro dicendo che l'evento si svolgerà regolarmente. Su questa visita importante del Pontevice abbiamo raccolto la dichiarazione del presidente della CEI della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bassetti, ascoltiamolo.